San Zaccaria Zaccaria, che significa il Signore ricorda, è il profeta più citato nel Nuovo Testamento dopo Isaia. Nato a Galaad dalla tribù di Levi, fu chiamato al ministero profetico nello stesso anno di Ageo, nel 520 a.C. Mediante visioni e parabole, egli annunziò l'invito di Dio alla penitenza, affinché si avverasse la promessa della venuta del Messia. Egli annunciò al popolo dei giudei, tornati dall'esilio, ecco, io libererò il mio popolo e lo ricondurrò a Gerusalemme. La sua profezia si avverò alla lettera, con l'ingresso solenne di Gesù sul dorso di un asino nella città santa Gerusalemme. Zaccaria compì molti prodigi, morì in tarda età e venne sepolto accanto alla tomba del profeta Ageo. Previsioni meteo per venerdì 6 settembre Al nord, maltempo dal nord-ovest verso il nord-est, con piogge anche consistenti. Al centro, piogge temporali su Toscana, Umbria e Marche, più solleggiato altrove. Al sud, temporali su Sicilia orientale e Puglia settentrionale, parzialmente nuvoloso altrove. Venti moderati da nord-ovest, mari mossi, temperature stazionarie.